Un segno tangibile della presenza di Vitruvio a Fano, in attesa che vengono scoperti i resti della sua celebre basilica, viene dato da un'opera a lui dedicata dal maestro Giuliano Vangi, uno dei più noti scultori contemporanei in tutto il mondo, di cui la città già possiede la statua della Concordia, posta sulla sommità della fontana di Piazza Ammiani. Un monumento a Vitruvio nato dalla proposta del Centro Studi Vitruviani, che è stato presentato dallo stesso autore, insieme ai rappresentanti del Centro e dell'amministrazione comunale. Questa volta non si tratta di una singola statua, ma di un vero e proprio intervento urbanistico, formato da una piazza circolare, la cui circonferenza è a forma di panchina, con al centro una base in marmo, su cui poggia una elaborazione dell'uomo vitruviano di Leonardo. Da una parte e dall'altra, la riproposizione della Pietà Rondanini di Michelangelo e due figure di un uomo e di una donna, quali cittadini contemporanei. Al presidente del Centro Studi Vitruviano, Dino Zachilli, abbiamo chiesto come è nata l'idea di questo progetto che caratterizzerà fortemente la città di Fano. È nata, diciamo così, non dico per caso, però da una sollecitazione che io stesso ho fatto con una mail al maestro e poi ci siamo visti, ci siamo, ne abbiamo discusso, lui ha cominciato a lavorare subito e ha prodotto un progetto di scultura urbana che scaturisce proprio dalle pagine di Vitruvio. Gioca con gli elementi geometrici del cerchio e del quadrato per prima disegnare il sostegno dell'uomo, che viene innalzato in alto, visibile a tutti, e poi col cerchio e col quadrato gioca a livello orizzontale. Che possibilità abbiamo di realizzare l'opera? Dove sarà collocata? E poi chi sosterrà l'impegno finanziario? Beh, su questo, allora, la prima cosa importante che io sottolineo con favore è che l'amministrazione comunale abbia raccolto convintamente questa idea. Se la città la condivide, io credo che il sindaco, l'amministrazione sia perfettamente in grado di reperire le risorse necessarie. La realizzazione dell'opera non dovrebbe costare di più, ha aggiunto Zacchilli, di un campo sintetico da calcio e per quanto riguarda il luogo è stata indicata Piazza Veduti, dove una volta era il foro di Fanon Fortune e dove, presumibilmente, si trova la basilica di Vitruvio. Comunque, dialogare con l'uomo vitruviano di Leonardo non è certo un compito facile. Sentiamo cosa ci ha risposto lo stesso Giuliano Vangi. È un'impresa molto difficile. È difficile fare un colloquio con Vitruvio, perché Vitruvio è un architetto fantastico, basava tutto sulla perfezione, sulla misura. Perché io non volevo fare un monumento che si passa sotto e si guarda magari la statua. Volevo fare una cosa da poterci vivere, da poterci camminare dentro, da poter dar modo ai cittadini di capirle e di viverla. È composto da varie materie, d'acciaio inossidabile, marmo bianco e pietra di apriscena.